Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La sua attività è enorme, è labirintica perché si è occupato di un mucchio di cose, tra cui io mi ricordo uno sceriffo di frontiera con dei grandi baffoni che si chiamava Pedrito e il dritto e che era sulle tavole finali dell'intrepido, se non mi sbaglio. Era il pedritissimo, non facevi il pedritissimo. Ecco, questo che era una delle sue trovate, devo dire di un divertimento enorme. Ma l'esperienza di cui vogliamo parlare oggi è l'esperienza in particolare dei Corriere dei Ragazzi. Poi naturalmente il discorso si può tranquillamente allargare. Cerchiamo di essere stringati noi, Gaspa ed io, in modo che Alfredo abbia più spazio e ci sia spazio per qualche domanda se qualcuno vuole farla. Vorrei concludere questo intervento iniziale con la citazione di uno che ha lavorato al Corriere dei Ragazzi, si chiama Franco De Vescovi, il quale ha scritto il periodo in cui ho lavorato al Corriere dei Ragazzi è stato il più bello della mia vita, direi che non c'è forse miglior modo di presentarsi che questo. Era il 1973. Il Corriere dei Ragazzi aveva cominciato nel 1972, nasce come una costola del Corriere dei Piccoli, di un Corriere dei Piccoli che non amava il fumetto più di tanto, almeno non l'amava il suo direttore che era Giovanni Mosca, che però aderì con entusiasmo all'idea di un Corriere dei Ragazzi. Il Corriere dei Ragazzi doveva poi appunto in un qualche modo spostare l'asse del Corriere dei Piccoli, diventare un punto di riferimento, cinque anni se non sbaglio, cinque anni di grande lavoro e qui troviamo una serie di grandissimi sceneggiatori e disegnatori che hanno fatto la storia del fumetto italiano e non solo italiano. Vi farà scorrere il nostro Pierluigi Gasp, un omaggio ci vuole a Milani che è stato una delle anime del Corriere dei Ragazzi. Milani ha scritto una marea di sceneggiature per il Corriere dei Ragazzi. Io me ne ricordo una molto bella che si chiamava appunto Uomini Pro e Uomini Contro. Tra gli Uomini Contro c'erano i nemici della società, i Dillinger per intendersi. Tra gli Uomini Pro c'erano una marea di scienziati, di benefattori, di eroi politici e civici. Ne ricordo uno con grande affetto perché è stato un autore di cui ci siamo occupati, il mio amico Donald Gillis ed io quando abbiamo scritto un libro di filosofia e della scienza, che si apre con la storia di questa figura che è Alexander Fleming, che è una delle più belle storie di quella serie di Milo Milani. Detto per inciso la disegnò Alberto Breccia, cioè non uno qualsiasi. A questo punto io cedo la parola a Pierluigi Gaspa e a Alfredo Castelli, ringraziando ancora Alfredo di essere qui con noi. Allora, prima di cominciare la chiacchierata tutti assieme con Alfredo, io ho preparato una carrellata di immagini, giusto per inquadrare per chi non l'ha vissuto, cosa era il Corriere dei Ragazzi, cosa c'era dentro. Vedrete che scorrerà all'interno di una ventina di immagini, vedrete che ci sarà il gota del fumetto italiano di oggi e di qualche anno fa. Adesso mi porto soltanto un po' avanti perché se no non credo che... Vediamo se ce la facciamo da qua. Ecco, invece ce la facciamo. Vedete, quella che avete visto prima è la copertina del primo numero del Corriere dei Ragazzi. Siamo nel gennaio del 72, fino al numero precedente il Corriere dei Ragazzi si chiamava ancora Corriere dei Piccoli. Ma in realtà i prodromi c'erano già, in un certo senso era già il Corriere dei Ragazzi. Semplicemente si sentiva il bisogno di cambiare anche il titolo per uniformare il titolo e i contenuti che già erano cambiati. Insomma, già da qualche anno si cominciava a cambiare il target e il tenore anche delle storie. Qua vedete, sono altre due copertine del primo anno. Vedete, in una c'è Gigi Riva, nell'altra se non ricordo male è Paolo Villaggio, sì. Cioè i personaggi sulla cresta dell'onda dell'epoca. Il primo anno tutte le copertine furono disegnate, a parte la prima, da Franco Bruna, che era un umorista, un caricaturista famosissimo e anche bravissimo, come potete vedere. Poi andiamo avanti. Ecco, questa è una delle caratteristiche più divertenti di Corriere dei Ragazzi. Questa è la redazione del Corriere dei Ragazzi. Credo che Alfredo ne sappia qualcosa, vero? Di questa immagine. Sì, mi rendo conto che non sia facilissimo. E subito dopo c'è l'anima veramente delle Corriere dei Ragazzi, che è Giancarlo Francesconi, che è stato il suo primo direttore, ed è colui che ha voluto e che ha diretto il Corriere dei Ragazzi. No, il primo direttore non è vero, in realtà è stato poco dopo. Però è stato il direttore del Corriere dei Ragazzi, quello che ha veramente portato questa innovazione nel fumetto italiano. Qua, come vedete, Alfredo non la vede, neanch'io la vedo, ma io l'ho già vista avendola montata, in realtà è una delle vignette di una rubrica, di una puntata di Tilt, che, guarda caso, era una delle serie più divertenti, ed è opera di Alfredo, insieme all'inizio con Bonvi e poi con Fagarazzi, giusto? Sì. Non ricordo male, vero? Ricordo male. Qua è una copertina del 73, giusto per far vedere quali personaggi ci sono. C'è una summa, se non ricordo male c'è i personaggi francesi tipo Michel Vaillant, c'è Ugo Pratt con Corto Maltese, eccetera. E questa è una delle sue caratteristiche. Questa è una pagina della posta, no? In questa pagina della posta si può vedere una delle cose principali con i ragazzi. Si parla dell'oggi, si parla della vita dei ragazzi, qua si parla di droga. C'è una lettera in cui si parla di droga e bastonate. Ne ricordo un'altra nella quale si parlava di mafia, c'era un ragazzo che chiedeva di parlare di mafia, e gli si rispondeva in maniera esaustiva, certamente con un linguaggio per ragazzi, no? Se non ricordo male... Sì, c'era il tentativo di parlare di cose per adulti con il linguaggio, appunto, accessibile ai ragazzi. Il Corriere dei Piccoli, scusa, sto interrotto brutto. No, no, vai, vai. Dicevo che il Corriere dei Piccoli è sempre stato legato al Corriere della Sera, era quindi rivolto a un pubblico borghese, abbastanza, chiamiamolo così, filo governativo, per rendere le idee, seguiva. Il Corriere dei Piccoli, una serie di linee che erano appunto borghesi, non dico neanche fascista, e durante il fascismo, certo, si era legato un po' al fascismo, come quasi tutte le riviste dell'epoca, tant'è che subito dopo la guerra, il Corriere divenne Corriere di Informazione, perché non poteva più uscire come Corriere della Sera, visto che era stato legato al periodo fascista. E il Corriere dei Piccoli, per un breve periodo, è diventato il Giornale dei Piccoli. Siamo arrivati, passiamo attraverso la direzione di Giovanni Mosca, che ha citato prima Giorello, il quale Mosca era, durante il periodo fascista, era, se vogliamo, un umorista di punta e abbastanza contestatore del fascismo stesso. Evidentemente, entro i limiti, erano i limiti imposti dalla censura, dal Ministero della Cultura Popolare, l'ha fatto sul Marco Aurelio e poi era passato al Bertoldo, a Milano. Come succede, non so perché, ma come è successo a molti autori che facevano satira, chiamiamola per rendere l'idea da sinistra, a un certo momento, invecchiando, è passato un po' dal lato opposto. Il suo Corriere dei Piccoli era particolarmente parruccone, particolarmente dotato di molto birgnao, cioè quel modo di scrivere cari giovani amici, oppure sono il giudice quattro occhi che vi insegna a vivere e così via. E è andato avanti un po' così, finché poi ha cominciato a cambiare, grazie a vari direttori, Zucconi. Scusa, ha avuto un grandissimo merito Mosca, ha portato Mino Milani. Ha portato Mino Milani e ha portato anche, stranamente, pur facendo un giornale che una volta si componevano le pagine col piombo, mica con il computer come adesso, io credo che ogni pagina del Corriere dei Ragazzi pesasse 30 kg, del Corriere dei Piccoli di Mosca, perché era praticamente una serie di colonne di piombo con qualche illustrazione qua e là. Però, stranamente, ha portato una storia a fumetti di un disegnatore che, tra l'altro, è ancora vivo, tanto per usare termini un po' brutali, anche perché è molto vecchio, perché adesso avrà 94 anni o giù di lì, che è Leo Cimperlin, che ha iniziato con Mosca. Però il concetto era di questo giornale sempre molto borghese, molto, un po' pesantino. Poi, pian pianino, grazie a Zucconi e a Triberti, i nuovi direttori, si è alleggerito un po'. Siamo arrivati al punto, finalmente, passa a Oriani, che era anche direttore editoriale della Casa Editrice, e che ha come caporedattore per il giornale a Giancarlo Francesconi. Giancarlo Francesconi è un uomo molto in gamba, lo ricordiamo tutti, con tutti quelli che hanno lavorato per il Corriere dei Ragazzi, con affetto, è morto l'anno scorso, anche lui non era un bimbo, evidentemente, perché aveva 90 anni, però appunto a tutti manca molto, perché era un uomo sempre intelligente e guizzante, che vedeva le cose in una maniera un po' diversa da quanto le avevano viste i suoi predecessori. Cominciava a vedere, scusate, il Sibilo, lui vedeva le cose da un angolo un pochino più di sinistra, e riteneva, cosa che io ritengo giustissima, che i ragazzi dovessero essere informati di tutto, della politica, della mafia, delle cose, in un contenitore che tra l'altro doveva essere divertente. La formula che usava Francesconi per divulgare la politica, la politica tra le mille altre cose, era quella del divertimento che attraeva, che però veniva condito, anzi, che in realtà serviva a fare passare molte altre cose, molte altre messaggi. Scusami, dimmi, ti ho interrotto con... No, no, hai fatto benissimo. Adesso, quello che fai... Continuiamo un attimo questa carrellata e vediamo esattamente cosa c'era dentro, in estremissima sintesi, perché veramente, attraverso le pagine del Corriere dei Ragazzi è passato l'universo mondo, ma l'universo mondo di una qualità spaventosa, adesso lo vedete, questa è la copertina, questo è uno dei vari passaggi che ha subito il Corriere dei Ragazzi, verso la fine ormai, qua siamo nel 75, cambiò, vedete, lo sfondo diventò arancione, qua il formato era ancora abbastanza grande, poi si ridusse ancora, diventando veramente piccino, piccino, fino al 76, quando alla fine del 76, neanche finì con il numero 46, mi pare, del 76, e il numero 40, finì trasformandosi in una sorta di intrepido, poi alla fine, insomma, i fumetti vennero, per esempio, sostituiti dalle foto di attori, giocatori di calcio, cose di questo genere, e poi passò a miglior vita, entrando, in un certo senso, nella storia del fumetto italiano, però, perché questi cinque anni sono stati fondamentali per il fumetto italiano. Sì, è piuttosto curioso, che c'è moltissimi lettori del Corriere dei Ragazzi, che ha concluso, 76, sono 40 anni, giusto? 4, 7, 11, e beh, ancora lo ricordano con enorme affetto, e con, e con, proprio con la voglia di rivederlo, tant'è che, si spera, Eh, speriamo che succeda. Non credo di rivelare nulla di segreto, se lo rivelo pazienza, proprio sia Pierluigi, che io, che altre persone, tra cui Maggioni, che era, all'epoca del Corriere dei Ragazzi, era l'Art Director, poi è diventato uno dei migliori, e più importanti, illustratori e Art Director italiani. Bene, può darsi che il Corriere, realizzi una serie di volumi, di quelli che vengono venduti insieme al giornale, proprio dedicati a questo leggendario giornale. La cosa doveva partire, il Corriere è stato acquistato da Cairo, Cairo ha improvvisamente fermato tutti i rubinetti, non sapremo ancora se si farà, però esiste un numero, già pronto, un volume di 200, quante pagine sono? 192 pagine. 192 pagine, è uno dei 30 che sono stati previsti. Questo per dire, come un volume, un giornale che non aveva personaggi fissi, cioè non aveva ricorrente, Topolino piuttosto che Pinco Pallino, ma aveva una serie di cose diverse, avesse un'anima così forte, che ha generato un ricordo, che è durato tutt'ora, insomma. Ma è quello che si diceva prima, sai, con la faccenda del personaggio fisso che non c'è. Se c'è una linea editoriale, e che comunque è coesa, e beh, sopperisce un po' la mancanza di un personaggio. ma tu dirlo però a uno del marketing. No, no, per carità di Dio, io non voglio avere a che fare col marketing, mi dispiace. No, a volte serve, però molto spesso è chiaro che vende di più, se fai Diabolic, se fai... certamente, su questo non per carità non c'è dubbio. se fai altre cose, con il personaggio che ricorre ogni settimana, il Corriere dei Ragazzi, impone e imporrà, se lo faranno, come imponeva allora, un certo discorso di intelligenza nella lettura, una voglia di apprendere, di capire. Ma anche un'assenza di ripetitività delle storie del personaggio, perché cambia continuamente. Sì, certo, c'erano vari personaggi, essendo un settimanale, tra l'altro, ecco, io come mai centro in questo settimanale? Io a quell'epoca già scrivevo, io di lavoro faccio lo sceneggiatore, oltre ad altre cose, e a quell'epoca già scrivevo da parecchio tempo, e a un bel momento, ho cominciato a scrivere per questa rivista, che allora era il Corriere dei Piccoli, bene o male funzionava abbastanza, e mi hanno assunto. Lì sono diventato giornalista, professionista, perché i colleghi dei ragazzi erano tutti giornalisti lì dentro, e basta, così è nata la cosa. Per un po' il mio nome non compare nel giornale, perché una volta, adesso non so se ancora sia così, quando uno diventava, doveva fare l'esame del giornalista, prima dell'esame, era un praticante. Il nome del praticante non era nemmeno nominato, anzi, quando si parlava di un praticante, facevano il segno della croce, ma il giorno dopo, dell'esame a Roma, che ricordo ancora, quasi con divertimento, perché era un esame serio, dove bisognava studiare davvero, ecco, il giorno dopo aver passato l'esame, si diventava un collega, da praticante a collega, e ci si dava del tu, cosa che io ho sempre trovato terrificante, siamo colleghi, diamoci del tu, come adesso che siamo colleghi, diamoci del tu. Questo non lo trovo terribile, mentre prima invece no, mentre prima invece no, non lo trovo terribile, ma è così. E lì appunto ho cominciato questo lavoro di giornalista, al di là del, quindi di redattore, soprattutto della cucina redazionale, al di là del lavoro di sceneggiatore, che mi occupava molto. Non c'entra niente, ma succede anche fra biologi, comunque. Nel momento in cui un collega scopre che sei biologo, allora ti dà del tu, perché sei collega. Questa è una cosa tremenda, vabbè, fa niente. Sì, vabbè, evidentemente succede. Ecco, il Collegio dei Ragazzi, come altre pubblicazioni, tra cui metto persino il giornalino, che è sempre stata una pubblicazione cattolica, fatta dall'edizione San Paolo, dall'edizione Paolini, è uno di quei giornali, direi che è stato uno dei principali, che riusciva a parlare di politica con una maniera però un po' diversa da altre pubblicazioni a fumetti. Adesso voglio fare un discorso un po' più vasto, direi che esistono due tipi, o forse tre, di pubblicazioni che si occupano di politica a fumetti. Allora, c'è la pubblicazione decisamente politica, solitamente si tratta di un volume one shot, un volume singolo, che parla di un particolare problema, di qualcosa che è accaduto, di, parla proprio volutamente, fa volutamente un discorso politico o addirittura partitico, cioè evidentemente una differenza, che è inutile che stare a spiegare, tra politica e partitica. Poi esistono, ecco, seconda categoria, anche qua, politica intesa nel senso di satira, satira politica, quindi esistono pubblicazioni che sono satiriche e, essendo satiriche, in generale, toccano profondamente il mondo politico. Esistono poi pubblicazioni come Il Corriere dei Ragazzi, ma arrivo persino a dire adesso, io scrivo questa serie che si chiama Martin Mister, che con la politica sembra non aver nulla a che fare, che invece con la politica hanno a che fare, ripeto, con la politica e non con la partitica, dando degli, diciamo così, degli orientamenti o delle sensazioni che però non sono estremamente, non sono mai caratterizzate da partitica in generale, ma anche per un motivo semplice. Ecco, parliamo per esempio non del Corriere dei Ragazzi, ma di Martin Mister. Martin Mister che è un personaggio, ripeto, che con la politica veramente, apparentemente, non ha nulla a che fare. Eppure il personaggio ha tutta una serie di caratteristiche che lo pongono in un'area politica abbastanza precisata. Diciamo, Martin Mister è un americano nella finzione, quindi non fa parte, certo, di un partito italiano, però sicuramente è un democratico e spiega anche alcune ragioni senza mai usare la parola democratico, ma per cui si muove, si comporta, fa determinate scelte. tant'è che questa cosa dà un po' fastidio a chi non è. C'è un sito su internet gestito da un tale, non dirò il titolo così nessuno va a vederlo, ma è gestito da uno che io chiamo il nazi nazista. Non è un nazi fascista, è un nazi nazista che si trova molto disturbato quando qualche fumetto fa questi discorsi che lui definisce terribilmente comunisti. I discorsi però non possono essere secondo me giustamente più specifici in un mensile dedicato a un target piuttosto vasto, dedicato a un grosso pubblico, eccetera, non possono essere anche più specifici perché per fare una storia a fumetti occorre circa un anno, un anno e due mesi, qualcosa di questo genere, storie di 96 pagine, è facile fare il conto, un disegnatore le disegna circa 10 al mese, più c'è tutta una serie di lavori intermedi, vuol dire quantomeno un anno di lavoro. Chiaro che non si può fare botta e risposta come si può fare su un quotidiano, cioè non posso parlare adesso di qualcosa di politico sapendo che uscirà tra un anno e tutto quanto combierà. Quindi però si può dare un certo tipo di orientamento al personaggio, alle figure e alle caratteristiche della storia. Nel Corriere dei Ragazzi che era un settimanale si poteva fare anche di più. Francesconi aveva se non inventato comunque inaugurato un'interessante formula di giornalismo a fumetti, cioè una notizia interessante e sceneggiabile perché ci sono delle notizie interessanti che però è sciocco mettere a fumetti e illustrare, sono impossibili da illustrare. Per fare un fumetto devono esserci una storia, deve avere determinate caratteristiche, non basta semplicemente che sia teoricamente bella oppure tecnicamente bella. Ne vediamo un paio questo tipo di storie venivano ogni settimana ne usciva una o due poteva essere una storia di cronaca una storia di sport una storia di vario genere e tra queste c'erano anche storie in questo caso decisamente politiche. Per esempio c'era una storia scritta da Mino Milani che era no, è grazie al cielo perché è vivo e lotto insieme a noi anche se anche lui non è più un bimbo ma era veramente un genio della scrittura ricordo una storia sul bandito di Giuliano che era piuttosto dura era qualcosa che 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 faceva molto pensare e allora che cosa è successo? E' successo che i lettori del Corriere dei Ragazzi i genitori dei lettori del Corriere dei Ragazzi hanno cominciato davvero a rompere le scatole a scrivere che era una vergogna che i ragazzini si proponessero di storie che parlavano di mafia che parlavano di politici i corrotti che parlavano appunto di resistenza forse ti ricordi? Infatti volevo farti proprio una domanda su questa cosa ieri abbiamo fatto un incontro sulla resistenza c'era quest'uomo deve morire che l'ho scritto io forse è scritto te esatto era da Ugeri da Ugeri allora tu nel libro nel tuo libro Castelli 25 si hai scritto che a un certo punto quando uscì questa cosa ci furono qualcuno storse il naso molto perché si parlava di resistenza si parlava di fascisti si parlava come un giornale per ragazzi i bambini non devono saper niente devono essere accompagnati i mani venite cari bambini mano nella mano vi porterò a vedere il meraviglioso mondo della guerra in trincea ecco e questo qui scandalizzava molto ma davvero è strano sembra strano ma dava molto fastidio al pubblico borghese che era quello abituato a leggere le pubblicazioni del Corriere Francesconi dal canto suo era un anarchico era un personaggio strano molto simpatico però anche lui era un po' direi sciocco ne abbiamo dibattuto per 40 anni quindi non sto insultando non è vilipendio di cadavere anzi lui era uno che per esempio non ha mai voluto mettere la giacca in vita sua c'era la Giulia Maria Crespi che allora era la proprietaria del Corriere che faceva ogni tanto questi incontri e Francesconi andava lì che sembrava un hippie e questo era una cosa che non aiutava non aiutava assolutamente uno dice che stupidaggine sì però non aiutava quindi da una parte gli attacchi dei genitori dall'altra lui che faceva l'hippie dall'altra anche noi altri c'era una parte della redazione di cui facevo parte anch'io che eravamo un pochino sciamannati un po' non eravamo così per bene no non eravamo per bene ma voglio dire eravamo molto meno per benino di quanto si sarebbe voluto e questa cosa senza stare a fare i martiri accompagnata dal fatto che il Corriere dei Ragazzi pur vendendo benissimo non vendeva come le pubblicazioni tipo Intrepido e Monello vabbè il solito marketing ha detto no lo chiudiamo o cambiamo di lettore poi praticamente è finito malamente come diceva lui prima questo tra l'altro commettendo una sciocchezza dal punto di vista editoriale notevole perché era l'unico canale il Corriere aveva poteva una volta era così aveva il Corriere dei piccoli poi uno passava alla lettura della Domenica del Corriere e finalmente passava il Corriere era proprio un veicolo questo per portare alla lettura del Corriere poi sono cambiate tante cose eccetera però rimaneva il Corriere dei Ragazzi un bel giornale fatto bene per un pubblico borghese ma mediamente intelligente a parte quelli che scrivevano con le sciocchezze che dicevo prima e quindi poteva portare condurre una generazione alla lettura del Corriere invece è andato completamente perduto non è più uscito nulla che avesse queste caratteristiche e non credo che si possa mai più fare per quello viene chiamato ogni tanto irripetibile scusate no adesso andiamo un attimo avanti perché poi ci sarà un'immagine sulla quale poi si potrebbe parlare vediamo un attimo un pochino vabbè questa è una delle rubriche questa qua è una delle prime cose fatte da sclavi sotto sopra sì sì siamo nel 75 se non ricordo male è una rubrica demenziale un classico molto di Dylan Dog arriva da qua le battute di Gaucho arrivano da qui la loro origine tutto sommato sta in queste ciliegie e nelle battute che sono riportate qui vabbè ecco si parlava poc'anzi di Milani no? questa è la fotografia di Milo Milani apparsa in copertina nel 75 vedo una tenda ma mi fido ti faccio il report eh anzi facciamo una cosa sediti qua così un po' la vedi no no ma va bene mi ricordo guarda oramai sono in memoria so anche ho presente benissimo la foto c'è la foto di Milo Milani è una cosa rarissima tra parentesi non mai abbiamo fatto foto di Milo Soli analisti in erbo in cui si stimolava i lettori a scrivere degli articoli se questi articoli fossero stati di qualità sufficiente sarebbero stati pubblicati sulla rivista cosa che poi in realtà è stata si è dilungata abbastanza e poi la rivista fine e finì e quindi non so esattamente se come Correr Boy anche perché pure Milo Milani se ne andò io ero già andato via Milo è andato anche lui quando è arrivato Correr Boy un giornale che si chiamava Corriere dei Piccoli poi dei Ragazzi e poi all'improvviso è diventato Corrier Boy ha provocato a tutti iconati vari sì abbastanza ho visto la differenza si vede è abissale se voi prendete gli ultimi non neanche gli ultimi perché già pian pianino lo stava diventando ma l'ultimo vero Corriere dei Ragazzi prendete Correr Boy si vede la differenza da sue a principessa del sole alla donna eterna ce ne corre direi proprio di sì quindi sto sommato ecco vedete questa è una delle storie di Milani il processo alla giuria si inventò un processo ai personaggi della storia un processo vero e proprio con un contraddittorio fra il pubblico ministero e il personaggio che si autodifendeva in questo caso faceva l'avvocato di se stesso e a disegnarlo chi c'era c'era un personaggio che sarà con noi domani che è Milo Manara giusto per dire in questo caso si è inventato i grandi nel giallo che risolvono ciascuno a proprio modo un giallo che riguarda e lo risolvono con le proprie conoscenze c'è Einstein che lo risolve con la scienza c'è Michelangelo che lo risolve con l'architettura c'è Giotto che lo risolve con un cerchio per intenderci e chi la disegna un altro grande qua stiamo parlando di Sergio Toppi questo qui invece è una copertina che raffigura il maestro ecco un'altra storia di Milo Milani lunghissima peraltro che ha accompagnato per quattro anni in grosso modo sì circa quattro anni ha accompagnato il Corriere dei Ragazzi a disegnare Aldo Di Gennaro che ancora oggi tra l'altro disegna fa le copertine delle storie della Bonelli se non ricordo male è ancora attivo come illustratore bravissimo peraltro anni 2000 ecco una delle rare incursioni di Milo Milani alla fantascienza che non è il suo la sua ambientazione preferita però qua chi c'è chi la disegna anni 2000 è la prima serie di un personaggio che Alfredo conosce benissimo Alessandrini si chiama che disegna che ha disegnato che è il padre grafico di Martin Mister e del padre grafico di Martin Mister in effetti il mondo degli autori di fumetti è tutto sommato abbastanza ristretto ci sono nomi che continuano a ricorrere 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 ricorrono anche perché sono bravi anche bene certo stavo dicendo che è una cosa positiva perché chi ricorre ricorre evidentemente ha qualche ragione di farlo c'è qualche ragione perché questo accade voglio dire certo se andiamo avanti ecco questa qua per esempio è la serie simbolo di Milo Milani che è dal nostro inviato nel tempo ogni puntata lui era come se andasse in una macchina nel tempo e vedeva luoghi personaggi della storia e li raccontava alla sua maniera in un episodio va a Nedar Danelli nell'altro va e trova Giovanni dalle bande nere in un altro ancora finisce e qui c'è una cosa tra l'altro molto intelligente che aveva voluto Francesconi perché la storia nel Corriere dei Piccoli c'erano già e storie di questo tipo in Europa ne uscivano parecchie per esempio su riviste belghe come Spirou uscivano racconti appunto di carattere storico di carattere documentaristico l'idea buona di Francesconi è stato caratterizzarle con la presenza di un personaggio un personaggio narrante esistente e che dava appunto questa idea di continuità al lettore è vero la storia una ambientata appunto ai Dardanelli e l'altra ci sono Stanley e Livingston però c'è sempre un personaggio che le collega tra loro questo nel mondo della narrativa popolare non solo del fumetto e lo vediamo anche alla televisione Piero Angela che presenta Piero Angela o suo figlio che è la voce narrante di tutta una serie di argomenti disparati molto differenti tra loro anche perché vai a vedere Piero Angela non vai a vedere qua alla fine sì perché è molto importante la presenza di una voce di un essere umano anche disegnato ha un suo importante senso nella narrativa popolare diciamo certo ecco quindi questa qua è la principale adesso qual è stato proprio numericamente parlando non vogliamo fare un discorso di merito ce ne sarebbe comunque anche agio sarebbe anche facile farlo ma numericamente parlando qual è stato l'altro grande sceneggiatore che ha riempito le pagine del Corriere dei Ragazzi vediamo un po' questa è una pagina montata alla bella e meglio perché doppia di una delle rubriche più divertenti della cosa che è Tilt te ne sai qualcosa mi sembra sì Tilt è una cosa che disegna è lui si nota quanto tempo è passato appunto quello con la barba nera e con i capelli ero io anche qua lasciando perdere la bravura dello straordinario la straordinaria bravura dello straordinario sceneggiatore in realtà c'è un altro trucco dentro che è abbastanza interessante cioè siamo riusciti sono ma siamo anche riusciti a rendere il direttore me Maggioni altri personaggi della redazione come personaggi di fumetti abbiamo creato un rapporto con il lettore tra parentesi abbastanza paritetico cioè anche noi virgola il direttore il redattore lo sceneggiatore eccetera subiamo sciocchezze infortuni e disgrazie come i come gli altri persone come come le persone comuni che si vedono nel fumetto umoristico questa cosa era estremamente legante nel senso che legava con i lettori i lettori scrivevano a Francesconi come una figura esistente e al tempo stesso qualcosa di magico perché era anche nella carta stampata era una faccia buffa io qua piccolo ricordo personale ricordo una volta che eravamo insieme Francesconi io Dani Fagarazzi che ha disegnato questa tavola se vedo bene sia Dani e poi c'era anche i bonvicini i bonvi eravamo andati insieme non mi ricordo perché eravamo sulla spiaggia a Fiumetto mi pare o a Via Reggio da quelle parti lì e c'era una bambina che ci ha guardato con gli occhi strabuzzati indicandoci alla mamma perché lei ha visto il personaggio che leggeva nel giornale era una cosa che secondo me la bambina se lo ricorda ancora e questo era molto importante perché ha creato proprio un rapporto diretto tra lettore e gli autori diciamo così della rivista i collaboratori principali della rivista dando quindi un'anima alla rivista perché secondo me un giornale deve avere un'anima è una condizione che non è sufficiente però è necessaria non è detto che se un giornale è un'anima vende però un giornale senza un'anima dopo un po' chiude perché il lettore non si sente legato si distacca e ne esistono tutti i giornali tra l'altro dimostrando di essere un pochino più giovane di te peraltro io lo leggevo da ragazzo e una delle prime cose che leggevo era Tilt erano tutte le cose era Luminobufo era la parte quella più cacciarona più deteriore però è la prima che andavo a leggere e con me anche gli altri che lo leggevano che conoscevo si perché faceva ridere era veloce e cominciava a prendere in effetti ci contava molto Francesconi su questo materiale semplicemente perché era un grabber proprio perché serviva a portare dentro il lettore nel giornale anche perché è pieno di gag terrificanti che poi probabilmente molte di queste erano non dico fatti realmente avvenuti ma insomma distorsioni più o meno di cose che succedevano in redazione se vogliamo è vero me lo ricordo di alcune mi ricordo di uno splat sul soffitto che non citeremo ma insomma che è meglio lasciar perdere però successe vabbè andiamo avanti ecco vedete appunto questo è appunto l'esimio autore di Tilt che si rappresenta come pittore di Santini e vedete anche dallo stile del disegno che è il papà dell'obbino bufo insomma allora anche qua c'è una cosa da dire prima di tutto che questo non ha molto che vedere con la politica e non vorrei appunto uscire troppo di tema però anche questo invece è magari qualcosa che vedere con il fumetto e con il con il lettore con il rapporto con i lettori questo fumettino che secondo me è politica editoriale può anche essere una politica di carattere editoriale che è quello del rapporto inter pares che è molto importante Lomino Buffo è un personaggio che dice delle battute demenziali però si rende conto che sono demenziali e detta l'orribile battuta ride si contorce ridendo dicendo che bufo che bufo questa è la banale formula di questa di questa serie e come nasce nasce una volta quando in tempi remoti si usavano le pellicole si usava il piombo si usava una serie di cose per stampare i giornali che adesso proprio non esistono più veramente non è una cosa incredibile la differenza era sparita era caduta sai Dio dove la strisciolina che ho scritto la palestra dei lettori così si chiamava la pagina delle barzellette quindi c'era un buco vuoto che andava riempito in due secondi si ci poteva rifare la pellicola però ci voleva tempo allora sulla carta di ingegnere quella trasparente semitrasparente io ho disegnato una battutaccia stupidissima che non vi ridirò anzi ve la dirò c'era un messicano che auscultava una noce non si sentiva niente poi c'era scritto avviso sgrammaticato avete sentito il silenzio della noce poi c'era un uomino che rideva rideva diceva che buffo che buffo che buffo questa cosa doveva finire lì doveva essere chiusa nata e chiusa per riempire quello spazio e invece la settimana dopo hanno cominciato a mandare tanti ragazzini a mandare barzellette sciocchezze di questo genere perché ragionandoci un po' sopra abbiamo capito che in realtà questa storia non faceva paura cioè un disegno molto bello un testo molto difficile beh allontana da un lato attira ma fa passare un pochino la voglia al lettore di farlo anche lui perché non si sente in grado invece l'uomino buffo giustamente chiunque si sentiva in grado di farlo quindi è diventato un prodotto praticamente dei lettori era una delle pagine più lette e aveva un feedback da parte dei lettori assolutamente incredibile io conservo ancora da qualche parte una scatonona tutta piena di lettere di persone che un giorno o l'altro ricatterò magari sono diventati importanti capitani di industria o che so io e invece da un bambino avevano scritto delle cose demenziali per l'omino buffo la cosa anche curiosa è che questo aggeggio qua questa strana cosa mal disegnata sempre da me continua ancora a funzionare ogni tanto la riprendo e ancora funziona questo dimostra che i bambini sono sempre gli stessi hanno prima di tutto un grosso senso dell'ironia e dell'autoironia cosa che invece molto spesso gli adulti non gli attribuiscono ritengono che i bambini non siano capaci di capire l'ironia e poi dopo siamo sempre uguali ridano le sciocchezze il problema è che l'unica cosa di cui sono dico tra virgolette fiero ma molte molte virgolette è che l'omino buffo capisce che le battute che dice sono delle grandissime sciocchezze mentre spesso queste battute le sentiamo senza il che buffo che buffo magari alla televisione si prendono anche sul serio presi sul serio ecco andiamo avanti un attimo facciamo scorrere ancora un pochino di immagini Otto Krundz un'altra delle che sulle quali non mi è mai piaciuta è lì era la parodia di Otto Krundz mi pare ma si era un tedesco con strane invenzioni buffe però zio Boris invece però zio Boris è un personaggio che tutto anche se non è nato per il Corriere esiste ancora perché esce ancora zio Boris incredibile dico tu eccetera eccetera è una cosa impressionante perché zio Boris aveva smesso di uscire 40 anni fa adesso è ripreso a farne in appendice di Martin Mister poi c'è come dico io viva la gioventù io bimbo non sono Dani Fagarazzi che lo disegna bimbo non è e poi chi vuole e arde dal desiderio di farlo come come cosa cinematografica è Enrico Beruschi l'attore di Drive-In quindi quando siamo insieme è proprio viva la bella gioventù perché sembriamo la banda vabbè comunque comunque è una bellissima parodia sono tutti gli stereotipi dell'orroro di originalità zero ma comunque va bene nonno Joe la cosa dentro la vara è qualcosa che francamente era stranamente una cosa disgustosetta c'erano per esempio la famiglia Adams piuttosto che i Monsters o altri personaggi delle cosiddette horror comedies erano bene o male famiglie normali borghesi di mostri che però si comportavano bene erano buoni in animo quelli di Siobori sono di una cattiveria tremenda mangiano i bambini vivono fanno delle cose uccidono stuprono stuprano colori eppure nessuno ha mai trovato niente da cepire neppure io perché fanno ridere per altri motivi comunque anche questo con la politica non è che abbiamo molto a che vedere eppure qualche vignetta di sapore politico c'era effettivamente vero c'era stata tutta una storia ma non nella versione del Corriere dei Ragazzi ma in una versione precedente con la storia di Pinelli in pratica dopo dopo e poi c'era stata qualcosetto d'altro non particolarmente dure ma insomma qualche altra cosina poi sparsa diciamo satira politica blanda non particolarmente dura era giusto così però c'era sì effettivamente per dare una giustificazione di questa cosa alla cosa andiamo avanti poi questo sono i personaggi simbolo è una delle serie simbolo del Corriere dei Ragazzi sì una come il maestro di Milani quest'altra è una serie gli aristocratici sono stati uno dei simboli era appunto il maestro era gli aristocratici un pochino anche Aquila nonostante fosse una qualità tutto sommato inferiore diciamo la verità però comunque e anche loro per esempio quando non ci sono però molti di questi alcuni di questi sono personaggi reali sono copie sono in realtà ritratti di personaggi reali tipo Moose Moose è un mio amico che lavorava al Corriere all'epoca eravano colleghi e poi dopo continuiamo a vederci regolarmente lì si vede un altro Alvaro che anche lui lavorava al Corriere poi c'è il Conte che è il mio era il mio ex ex suocero due volte ex perché poverino è morto e perché ex perché mi ero separato divorziato in un certo momento che era una persona molto simpatica in gamba che non aveva mai letto i fumetti però accettava davvero un genere che faceva queste cose e si era divertito a provare a leggerli perché perché la cosa li incuriosiva e mi aveva detto una cosa che mi ha fatto riflettere su un fatto che spesso veniva ripetuto quando si parlava male dei fumetti lui diceva mi aveva detto sì faccio fatica però non è il tipo di lettura a cui sono abituato lui tra l'altro era abbastanza intellettuale leggeva cose però fa quello che mi fa faticare molto è che non capisco a volte che cosa vogliono dire determinati segni perché per esempio alcuni parlano con una nuvoletta fatta in un certo modo e altri con un affarino che sembra una freccia altri invece hanno delle palline invece che l'indicato alcuni hanno delle vignette con il bordo disegnato in una certa maniera e altre ancora morale i ragazzini che hanno cominciato a leggere i fumetti fin da piccoli si sono abituati a decodificare alcuni dei codici con cui i fumetti vengono scritti ma un adulto che improvvisamente vi incappa si trova in difficoltà si trova in difficoltà e questa difficoltà dimostra che appunto il fumetto non è poi così facile si diceva una volta e forse si dice ancora qualche volta e vabbè i ragazzi no adesso non si dice più si dice almeno i ragazzi leggessero i fumetti e almeno leggono qualcosa ma una volta si diceva i ragazzi leggono i fumetti perché sono molto più facili da leggere dei libri non è mica così anche i fumetti hanno una loro difficoltà un'altra cosa curiosa che non c'entra con la politica però l'abile gaspa riuscirà a trovare lo stesso un legame sicuramente un legame è questa mi ricordo che mia madre mi diceva da bambino che non dovevo leggere i fumetti perché fanno diventare ciechi fanno male alla vista ora i fumetti possono fare di tutto far diventare scemi far diventare... però perché ciechi? boh e mi sono sempre domandato questa strana cosa per quale ragione questa strana cosa allora voi provate si può fare molto facilmente con un computer col computer copiare un pezzettino senza leggerlo prima possibilmente copiarlo su un programma tipo Word o quello che si vuole e mettere tutto maiuscole poi cominciare a leggerlo quando è sullo schermo tutto a lettere maiuscole noi non siamo abituati a leggere le lettere maiuscole a leggere frasi scritte con un epigrafe su una... come si chiama? facciamo fatica vedrete che c'è lo sguardo fa dei piccoli salti per passare da una lettera all'altra perché non siamo abituati questo tipo di difficoltà secondo me ha generato il fatto che gli adulti non abituati a leggere appunto lettere maiuscole e poi per di più scritte in mano identificavano questa specie di piccolo sobbalzo nella lettura come qualcosa che dava fastidio alla vista interessante oltre al fatto politico anche no? no oltre al fatto che comunque può essere collegato anche al fatto che i frumenti comunque sono sempre stati considerati per decenni allora quello va da sé e anche questo però dicevo che questo fatto era curioso perché mia madre che non era sciocca e così via però questa cosa della vista mi sono sempre domandato perché i fumetti poi c'erano quelli scritti veramente con un lettering osceno che ma qua hanno tutto un altro discorso erano magari anche stampati in mare no che interessante come cosa effettivamente quella politica è un po' dura questa è dura però però andiamo avanti va vabbè non c'erano soltanto loro adesso passiamo un secondo Cavazzano e Tiziano bravissimi tutti due al volo Tiziano e Cavazzano Tiziano Sclava e Cavazzano ragazzi questo è Altai e John non sto neanche a dire cosa cos'erano insomma cosa hanno rappresentato ma per dire che insieme ad Alfredo insieme a Milo Milani c'erano anche altri sceneggiatori altri autori che si occupavano di scrivere le storie uno fra questi appunto era Tiziano Sclavi un altro che si occupava soprattutto in primi anni di storia e soprattutto di carattere sportivo è Roberto Renzi sì il quale Renzi anche lui io spero che Corriere dei Ragazzi porti longevità a tutti quelli che ci hanno collaborato perché Renzi adesso deve essere più sui 100 che sui 90 di anni è un uomo ho avuto il piacere di portarla a Lucca qualche anno fa ed era una condizione splendida splendida eccetera eccetera lui è stato lui era ha iniziato proprio la sua carriera scrivendo fumetti scrivendo una serie che si chiamava Hakim una specie di Tarzan poi è diventato giornalista poi è diventato il capo dell'associazione giornalisti Lombarda associazione Lombarda giornalisti e vi dicendo è ancora i semi attività diciamo semi perché adesso giustamente è in pensione direi che è anche giusto e lui fece tutta una serie di storie soprattutto caratteristiche sportive poi ne fece anche delle altre ma insomma si caratterizzava soprattutto per le storie sportive poi andiamo avanti ecco adesso facciamo giusto una carrellata di autori che sono passati del Corriere dei Ragazzi eccolo qua questa è una storia sempre del nostro inviato del tempo chi la disegna Dino Battaglia andiamo avanti di nuovo i grandi del giallo chi lo disegna Topi l'abbiamo già visto questo è di Gennaro nel Maestro questo è di nuovo Manara in una delle varie storie in questo caso Zoom fumetto delle storie riprese dalla realtà abbiamo avanti ecco qua qua c'è Micheluzzi Attilio Micheluzzi che ha esordito poi nel Corriere dei Ragazzi si chiamava si faceva chiamare con un pseudonimo Baieff Baieff come era? Baieff Baieff qua c'è Giorgio Trevisan che ha lavorato tutto sommato abbastanza poco e soprattutto verso la fine però è un grandissimo disegnatore secondo me molto sottovalutato vi dico subito che non c'è Lupo Alberto e non c'è Silver mi sembrava anche eccessivo però Silver è nato comunque è nato con i Corriere dei Ragazzi e continua gagliardamente non soltanto continua gagliardamente ma è diventato proprio un fenomeno si 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 è uno dei pochi personaggi Lupo Alberto ecco un altro personaggio che ha piccole connotazioni politiche di quella che io chiamo la satira blanda perché non è satira politica ma dei tocchi qua e là di attenzione alla nostra realtà politica ce li ha ed è diventato questo titolo di cronaca è uno dei pochi personaggi italiani che ha un merchandising cioè una serie di oggettisti di oggetti cioè un'oggettistica legata appunto a lui che è paragonabile quasi a quella di Snoopy e dei personaggi di Disney io mi ricordo giusto di Lupo Alberto non più sul Corriere dei Ragazzi perché non poteva certo farlo ma a un certo punto fece tutta la serie dei bravi ragazzi che erano le BR esatto e lui quindi c'era Enrico Latalpa che col cartello con la stella cinque punte delle cose però c'era BR e chi sono le BR tutti si spaventavano ma come siamo i bravi ragazzi noi quindi ha fatto una parodia di questo e di altro più che parodia direi una certa satira anche abbastanza con gente grazie a Dinasio grazie a Dinasio per esempio con Valentina Melaverde ha raccontato la famiglia media americana e si americana italiana con tutti i problemi della famiglia media italiana questo è un fumetto veramente politico e non è casuale che grazie a Dinasio sul Corriere della Sera ancora faccia delle vignette di commento satirico politico che avevano sociale interpretate dalla sorellina di Valentina Melaverde che si chiama Stefi grazie a Dinasio anche lei non è una bimba stiamo parlando veramente anche lei ha iniziato a disegnare nel periodo di Mosca ed è una donna straordinaria anche lei più vicina ai 90 che gli 80 che però continua a lavorare con un gusto e con un garbo incredibili e che se fosse nata in Francia sarebbe veramente probabilmente qualcosa di più ma soprattutto a me ha sempre colpito il fatto che appunto ci fosse il racconto della vita quotidiana come la vita quotidiana può diventare avventura della vita e quindi essere raccontata perché non era esagerata non era Giannino Stoppani che io amo moltissimo Gian Burrasca che è divertentissimo raccontava in un certo modo di famiglia borghese di vita eccetera però la raccontava in una maniera umorista esagerata tra virgolette mentre la grazia di Dinasio raccontava episodi che potrebbero veramente accadere ma con quella leggerezza e con quel garbo e abilità che che appunto è stato abbastanza limitabile ogni tanto i suoi libri per fortuna ora continuano ogni tanto riprendono a ristamparla sì adesso è uscita tutta la serie è stata pubblicata qualche anno fa insomma ma c'era il Corriere dei Ragazzi c'era anche un'altra signora che si chiamava Iris De Paoli e che quella è morta tanti anni fa che era un'argentina che viveva a Milano e faceva queste storie anche lì abbastanza magari erano erano vicende tratte dalla dalla narrativa soprattutto ispanica tipo La Sariglio De Tormese e cose di questo genere però c'era sempre questa piccola toccatina lievemente eversiva che caratterizzava questa sua produzione e lei invece purtroppo non è stata più ristampata ed è un vero peccato perché era bravissima ogni tanto mi toglieva il saluto lei castigava chi la faceva arrabbiare con periodi di toglimento di saluto io credo di aver toccato i dieci giorni perché ho ritagliato un pezzo di carta nera e fatto una macchia di inchiostro finta sulla sua tavola e questo mi aveva appunto potete capire com'era l'ambiente era molto scherzoso e divertito ovviamente testimonia che stavate bene evidentemente infatti a volte stasera non l'ho fatto dire la verità ne intendo farlo perché è veramente fuori tema però parlando di questo giornale spesso si raccontano aneddoti sciocchezzuole eccetera eccetera mi è venuto in mente anche che poteva sembrare un ambiente di imbecilli tutto sommato no è chiaro che uno non racconta questi fatti magari divertenti non dice oggi un giorno siamo andati a lavorare alle 8 del mattino perché gli hanno tirato alle 8 di sera lavorando come brutti e poi il giorno dopo siamo andati no è chiaro che si raccontano dei momenti però la presenza di momenti di relax nell'ambito di una redazione secondo me non può che essere positiva quello che per esempio un pochino è mancato e forse riprenderà nelle redazioni di Bonelli era un po' di questo questo momento di scherzosità attenzione che non deve durare una giornata perché se no si diventa bisogna lavorare però quel momento che permette di rilassarsi di riprendere energia e di andare avanti con un lavoro cercando di farlo al meglio a mio avviso fa anche un'altra cosa cioè fa comunità sì il concetto di comunità e questo può essere un concetto politico era veramente forte la cosa curiosa è questa bene o male sono passati dalla fine di questo giornale 40 anni 40 anni non è poco qua tra voi non c'è tanta gente che ha più di 40 anni magari è il buio che mi fa vedere però mi sembra che siano persone molto più giovani ecco sono passati 40 anni ancora fino a poco tempo fa ci vedevamo De Gennaro Maggioni Alvaro Marcello io con Francesconi che ora è morto poveraccio andando una volta al mese ma non era poi io De Gennaro lo vedo molto più spesso perché lavora per la casa di Palabonelli e via dicendo ma dicevo che questi incontri non erano un incontro degli ex scombattenti reduci erano incontri normali tra amici che ogni tanto si vedono e magari avendo ognuno da fare sceglievamo di mangiare insieme a pranzo e di andare quindi ha creato un legame molto forte e il legame molto forte per me è piuttosto importante credo come in questo caso anche politicamente e aiuta anche aiuta moltissimo ma certamente ma aiuta anche la coesione aiuta anche litigare è fondamentale il litigio con Francesconi è durato 40 anni ma tu dovevi metterti la giacca e hai fatto male a non metterla perché hai creato dei problemi a tutti e invece io non la metto perché insomma è un litigio ideologico non sciocco secondo me chiamavano e questo è Ferdinando Tacconi per esempio Tacconi molto bravo anche lui non mi ricordo non mi ricordo neanche che storia sia non è neanche una delle sue storie preferite in genere lui le storie avviatorie gli piacevano molto ma non riesco a capire cosa è una storia di un paio di pagine una delle primissime storie questa qua per esempio invece è Mario Uggeri Uggeri bravissimo è bravissimo è sottovalutatissimo beh no non direi sottovalutato ma è poco noto perché non ha mai fatto personaggi fissi intendo in questo senso non ha mai fatto personaggi fissi contrariamente a Di Gennaro contrariamente a Uggeri a Tacconi e compagnia e per cui mancando il personaggio fisso non è connotato non è ricordato con un e questa è una storia tra l'altro una storia di quelle che dicevi prima sono storie di eventi legati alla realtà di quei giorni ne vedremo anche degli altri questo chiaramente è Buzzelli che faceva la che disegnava la riduzione la trasposizione a fumetti della Donna Eterna di Haggard e poi abbiamo Iacovitti che è compasso sin dal primo numero e poi torniamo un attimo a bomba torniamo un pochino più alla politica a parte che ho trovato per fortuna questa immagine che è anche legata alla zona già che ci siamo perché delitto a Venezia il processo in cui venne interrogato anche Montanelli per un fatto di cronaca legato alla un fatto di cronaca appunto che avvenne in questa zona qua e questa è una delle varie illustrazioni che per un anno e mezzo circa aprivano il giornale disegnata da in questo caso da Ugema c'era anche Bifignandi c'era Di Gennaro che le disegnava infatti vedete qua c'è una seconda vedete qua si parla del lavoro minorile ma di bambini che lavorano a 12 anni nei cantieri quindi sono argomenti assolutamente seri il testo sotto adesso non si può leggere e credo che sia Di Gennaro questo sì ma voglio dire il testo è scritto in un italiano non ha nulla di bambinesco ovviamente usa dei termini delle parole eccetera eccetera che si dà cioè parla a ragazzini che si pensa avere 12 13 anni quindi non si usa il linguaggio che si userebbe con un laureato c'è un linguaggio che è autodefinito si autodefinisce ma assolutamente utilizzabile anche in un testo per adulti e secondo me il vero maestro di questo tipo di linguaggio è un giornale che appunto quando lo dirò a tutti si faranno il segno della croce che è cronaca vera era un giornale non so se esiste ancora ma era un giornale titolo di copertina violentata per 12 ore con un vicido mollusco sì non mi ricordo era un classico bene all'interno era diretto da Bovarini Bovarini era un disegnatore satirico ma anche un bravo giornalista le storie di questa violenza inizia Bogotà virgola capitale della Colombia stato del Sud America cioè ogni parola era spiegata ogni frase in buon italiano era facilmente capibile tutto quello che era successo prima era citato quindi a parte il contenuto dell'articolo la formula era perfetta a me adesso vabbè con internet è cambiato tutto ma io ogni tanto andavo in bestia leggendo anche su quotidiani seri magari stavo via un giorno magari all'estero e quel giorno lì non leggevo giornale o leggevo non leggevo giornale l'indomani nella nota vicenda tale dei tali ma quale nota vicenda e non c'era più nessun riferimento a quello che era successo e che io avevo perso e quindi mi sentivo profondamente cretino ecco questo tipo di attenzione noi lo ponevamo moltissimo nel Corriere dei Ragazzi anche questo credo che abbia qualcosa di un valore vagamente politico ripeto non partitico ma è quello di fare partecipi la gente di non trattarla come dei deficienti ma di trattarla secondo me è politica di alto livello non so se sia di alto però il tentativo è quello di appunto di parlare con la gente farsi capire ma non perché tu non capisci sei stupido no perché è giusto ti do gli strumenti ti dico le cose ti do gli strumenti ti dico le cose poi a te pensare questo non riesco a vedere cos'è Donato Lopez una storia di cronaca anche questo Lopez era un non era mica un no non era un brigatista o un no era probabilmente uno che aveva fatto non mi ricordo cosa aveva fatto che poi insomma in qualche maniera si era ripreso ma di chi ha il disegno che non riesco a vederlo non mi ricordo a parte la bellezza anche del disegno perché insomma è bellissimo comunque era un uomini un uomini contro insomma di Gennaro non lo vedo ecco 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 vedi per esempio Olimpiadi senza ritorno giorni del massacro qui c'è c'è la rievocazione di cose successe di ciò che accadde a Monaco durante le Olimpiadi e quindi ce le racconto quasi in diretta questa è una delle cose che ha parlato si la ricordo benissimo perché mi ricordo questa cosa qua infatti quando ne parlavi non so chi è che c'è scritto chi l'ha sceneggiata non so se l'ho fatto non me lo ricordo è Milani ah Milani Milani era una scheggia partiva e faceva le cose ripeto si riusciva se la storia era breve magari uscirla la settimana dopo forse la settimana dopo no ma dieci giorni dopo mi ricordo adesso non vorrei sbagliare io mi sembra di aver letto da qualche parte che infatti quando c'erano queste cose voi vi riunivate apposta per selezionare cercare qualcosa che potesse notare che sono in bianco e nero queste mentre le altre sono colori il bianco e nero per fare più veloce era un inserto centrale in bianco e nero perché la stampa in bianco e nero non imponeva la colorazione eccetera eccetera ma la cosa era proprio questa di riunirsi per vedere ma noi le riunioni ne facevamo una o due a settimana ed era un momento che non era la riunione era dura un quotidiano la fa tutti i giorni quello era un settimanale in teoria potevamo farla molto più tranquilla e più blanda ma invece ce n'erano una o due perché c'era poi la chiusura di zoom mi pare che si chiamasse quell'inserto lì che era fatta un po' più tardi per riuscire a star dietro alle notizie certo c'era Milani che se non ricordo male quando dicevano c'era da fare questo faceva obbedisco e si metteva alla macchina per scrivere e questo scriveva a raffica veramente sì veramente incredibile e sempre a quell'epoca non c'erano ancora le macchine elettriche o perlomeno quelle elettriche con la testina quindi Milani scriveva così veloce che aggrovigliava i tasti e non aveva i martelletti della macchina da scrivere in una maniera che sembrava bisognava tagliarli per scrovigliarli come il nodo infatti sul nodo male erano pieni di rifusi ovvi insomma che bisognava un attimo tenere a bada insomma vabbè chiaramente lo sport qui c'è Giacomo Agostini ecco vedete un altro un altro l'Utring ecco ed ecco quello che ti volevo dove volevo arrivare cioè il Corriere dei Ragazzi si fa delle storie ambientate nella realtà cerca di raccontare la storia cerca di raccontare la realtà com'era con il linguaggio dato per i ragazzi però in realtà poi c'è anche un apparato giornalistico propriamente detto sì a fianco questo è un articolo che è firmato da Ferruccio De Bortoli per esempio ecco Ferruccio è venuto a lavorare io lo chiamo Ferruccio ma non per fare sfoggio di amicizie però per noi del Corriere dei Ragazzi era il giovane Ferruccio detto anche Uccio o il piccolo scrivano milanese perché scriveva fino a tardi e per noi è rimasto Ferruccio e lui devo dire la verità pur essendo stato il direttore del Corriere pur essendo una persona importante e beh davvero è veramente una persona con noi alla mano per così dire cioè è difficile che questo succeda è un po' distaccato dal gruppo ma anche perché del gruppo non faceva strettamente parte lui è arrivato all'ultimo momento ed è stato lì non tanto tempo però bene o male anche lui è rimasto legato a questo gruppo ecco lui poi negli ultimi negli ultimissimi anni forse nel 76 ci fu anche Enzo Biagi che fece qualcosa questo non me lo ricordo con Barberis verso la fine ci furono alcune cose non tantissime cose però comunque sono passati nomi che non sono esattamente impalpabili nella storia del giornalismo italiano infatti dopo Francesconi venne un direttore che si chiamava che si chiama Alfredo Barberis che era un bravo direttore un bravo un uomo molto colto non riusciva però secondo me a comunicare con i ragazzi per cui però essendo persona colta aveva tirato dentro a lavorare nel giornale un sacco di personaggi del giornalismo chiamiamolo così alto solo che questi personaggi molti mi ricordo Giovanni Grazzini che era un critico cinematografico non sapevano parlare ai ragazzi cioè credevano che per parlare ai ragazzi bisogna usare il birignao di cui parlavo prima venite cari bambini mani nella mani eccetera 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 e quindi lì era una cosa che è stato un peccato perché noi che avevamo lavorato per tre quattro anni sulla comunicazione su questo rapporto paritetico col pubblico sul primus inter pares sul non ex cathedra e tutte queste belle frasi latine bene per il momento salta fuori mano nella mano per vi porteremo nel meraviglioso mondo del cinema e questo non andava bene infatti il giornale è caduto è crollato purtroppo un peccato perché quello di Barberis era un bel giornale ma mancava di afflato si poi arrivò ad Argenzio poi va bene poi lascia completa l'opera mettiamola così insomma di trasformazione questo coppia queste coppia è appunto il racconto anche dello sport dal punto di vista giornalista Manocchia Manocchia era un giornalista sportivo e veniva dalla gazzetta non so chi l'ha fatto a questo non riesco a dire ma questo è Bonvi credo Manocchia credo Manocchia stesso vediamo un po' sì sì ma i testi sono di Manocchia il disegno non riesco a vederlo è Alessandrini ah pensa in questo caso è Alessandrini e vabbè questa è una delle storie anche questa fatta da Bonvi e da Alfredo per sempre tratta dalla realtà dell'epoca non ricordo neanche cosa fosse sì non me la ricordo neanche io però era una storia vera ovviamente trattata trattata essendoci Bonvi in una maniera caricaturale e anche questo comunque un modo per affrontare la realtà era e porgerla all'età Bonvi che spero ricordiate per per altre cose beh in Nick Carter metteva dentro Nick Carter era il personaggio che faceva per la televisione ma anche a fumetti insieme a De Maria in Nick Carter c'erano dentro delle stoccatine e delle delle indicazioni politiche ripeto sempre molto lievi sempre cercando non era un giornale politico il Corriere dei Ragazzi però l'indicazione era quella credo che siamo in fondo qua per esempio si parla di decreti delegati ecco chi è stato al liceo negli anni 70 si ricorderà cosa erano i decreti delegati una cosa terrificante e stiamo chiudiamo qua questa 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 parte dopo abbiamo un bonus da far vedere però magari volevo vedere se ne fate potevamo intervallare se c'era qualche domanda e poi facciamo vedere quest'ultimo bonus che è una cosa diversa ma secondo me è molto legato anche al Corriere dei Ragazzi non ne parlerete domani ne parleremo anche domani però già che sei qua oggi approfittiamo visto che poi l'hai scritto insieme a Mario Gomboli dicevo c'è qualcuno che ha che finora abbiamo parlato abbiamo parlato però magari ci farebbe piacere anche se ci fosse qualche curiosità qualche domanda in merito lo so che la prima è sempre la più difficile questo sono io il primo a trovarmi a disagio quando me lo fanno a me quando sto da quella parte intendo per cui se qualcuno ha una domanda una curiosità c'è eccolo devo un caffè volevo aggiungere una cosa a quella che avete detto spesso c'erano vari contrapunti fra articoli e altre rubriche perché sui decreti delegati io mi ricordo che Valentina Melaverde diceva che cosa voleva cosa significavano e per me che avevo più o meno l'età di Valentina Valentina era una complagna di classe una che viveva le stesse cose che vivevo io quindi la coesione all'interno del giornale si avvertiva dalla parte dei lettori perché le cose che non riuscivi a capire nell'articolo nelle lettere venivano in qualche modo ridecodificate con altri linguaggi e in una maniera o nell'altra passava il messaggio che ti insegnavano a leggere la realtà io dico in famiglia per esempio che io ho a parte i genitori naturali mia madre è Graziani d'Asio mio padre è Mino Milani perché ci sono cresciuta e la cosa bella è che il messaggio che veniva trasmesso era quello che tu dovevi imparare a pensare con la tua testa e questa è la cosa che rendeva così coinvolgente un giornale che non aveva un unico personaggio ma tante voci il fatto è che tu eri parte di quella storia tu ti ci riconoscevi quotidianamente Luthering io lo dicevo a mia figlia perché quando c'era il fumetto verità flash zoom l'inviato nel tempo veniva veicolato che la storia che ti raccontavano ti consentiva intanto di ragionarci perché ti trattavano come una persona grande e soprattutto che poi ci dovevi pensare tu sopra e quindi se ne discuteva a scuola se ne parlava come se fossero appunto personaggi reali alcuni lo erano ma io la ringrazio perché ha detto una cosa veramente molto bella sul fatto del questo secondo fatto del fatto che faceva pensare invitava a pensare sul fatto che effettivamente ci fosse un legame tra la parte scritta ci fosse proprio un nasce dalle famose riunioni dove si progettava proprio il numero in linea generale dicendo va bene abbiamo una storia a parte il fatto che si dice al mese diviso in quattro settimane o cinque allora questo mese mettiamo una storia di apertura che è di carattere che ne so strettamente avventuroso poi di backup facciamo una storia tecnologica insomma c'era un mix ogni volta che veniva fatto tra i vari generi e poi si sceglieva una tematica quasi forse un numero monografico che diventava una tematica trasversale nell'ambito della faccio un esempio banale per dire la cosa veramente più banale di tutti il numero di Natale che era completamente natalizzato pur mantenendo proprio le sue caratteristiche solite questo per dire una cosa molto facile ma giustamente anche i decreti delegati o altre cose c'è qualche altra il ghiaccio è rotto adesso non c'è più la scusa adesso c'è la fame che spinge il sonno un'ultima un'ultima domanda c'è qualcuno che vuole fare un'ultima domanda poi vediamo al volo questo bonus che è un'anticipazione anche di quanto vedremo domani per chi avrà voglia e il piacere di venire a vederci insomma andiamo al bonus vedo dalle facce che vogliamo tutti andare al bonus se possiamo far vedere il secondo filmato vabbè c'è un titolino la strategia della tensione raccontata a fumetti molti di voi sapranno già di chi si parla peraltro se lo ricordo male c'è anche nel banchetto lì il volume è anche lì che è stato ristampato più o meno recentemente non so quando ma insomma 2010 non tantissimo una delle tante ristampe non è la prima no è la terza mi ricordo infatti diverse allora questo che state a vedere è una storia scritta da Alfredo insieme a Mario Gomboli che è l'attuale direttore editoriale di Diabolic no direttore responsabile di Diabolic l'editore l'editore di Diabolic è pubblicata alla fine degli anni 70 78 mi sembra 75 può essere si si no hai ragione hai ragione si si non mi ricordavo la data esatta adesso e racconta appunto quello che dice cioè la strategia della tensione vi faccio vedere la copertina eccola qua questa è la copertina originale questa è la versione originale si che è di Uggeri che è di Uggeri e vedete quella che vedete invece alla sua destra è la quarta di copertina ed è la quarta di copertina dove c'è un messaggio del PSI il paese è cambiato la DC no più forza al PSI perché si era in campagna elettorale o quasi se non ricordo male infatti qua dico una cosa che non sa neanche Milo perché un'altra volta che abbiamo presentato quel fascicolo diciamo domani si così le 10 domani la domanda era come mai abbiamo fatto questo volume a parte il fatto che a quell'epoca il PSI era il PSI non era il partito ed era diciamo un'alternativa comunque un'alternativa a questo potere di DC che era abbastanza pesante tra parentesi il PSI è stato il primo a parlare della strategia della tensione prima c'era la logica degli opposti estremismi cioè sia un po' destra un po' sinistra noi siamo i bravi invece si è andata fuori quindi in questo senso è stato un lavoro secondo me molto positivo quello del PSI di quell'epoca sta di fatto che però io sono sicurissimo che questa cosa era stata commissionata o richiesta a me proprio e poi ho passato la cosa a Mario Gomboli a Milo ma non mi sono mai ricordato chi aveva dato questa commissione adesso mi è venuto in mente ed era un pubblicitario per cui ho fatto un piccolo lavoro pubblicitario il nome non me lo ricordo ma ecco il giro nasceva da un pubblicitario che evidentemente lavorava per il PSI o che so io ha bisogno di questo prodotto che è stato tirato tra l'altro in una tiratura mostruosa 600.000 copie regalate ed è una storia diciamo che viene considerata una delle prime ora si dice graphic novel perché di fatto è un piccolo novel è un piccolo romanzino con una storia veramente politica in questo caso in questo caso c'è veramente la storia delle bombe di piazza fontana si parla senza non ci sono giri di parole questa è una storia sulla storia fa parte di quel gruppo di cose che all'inizio ho detto parlo specificamente e volutamente di politica la cosa curiosa che neanche questa sa Milo credo forse lo sa ma non l'ha vista è che è uscita da pochissimo in tedesco questa intitolata di strateghi da Spannung che vuol dire appunto la strategia della tensione è stata fatta da una casa editrice fortemente politicizzata di Vienna e basta e Milo domani ve ne parlerà abbondantemente la domanda che posso fare a te non posso fare a Milo a questo punto è questa qua ma vedete un attimo alcune immagini ma le informazioni sulle quali vi siete basati per scrivere questa storia io l'ho letta riletta diverse volte ma già all'epoca molte di quelle cose diciamo che sono venute io non la trovo io questo mi ricordo proprio l'ho scritta con Mario ma che non è che mi ha fatto molta fatica no mi piacerebbe poter dire che abbiamo avuto segretamente no l'abbiamo ricostruita in una maniera io devo dire di averla letta a posteriori appunto se la guardi non ha niente di particolarmente speciale però ha una storia che si lascia leggere tra virgolette nel senso che al solito Bada racconta la storia di esseri umani racconta delle storie sì che poi c'è il giornalista che appunto entra nella storia della strategia dell'attenzione ma è un giornalista di fantasia insomma sì di fantasia lì c'era la grande lezione era secondo me Carlo Lizzani con alcuni film che aveva fatto e il solito Orson Welles che insegna sempre a partire dalla fine arrivare all'inizio e c'è una cosa però che lo collega al Corriere dei Ragazzi secondo me se lo leggi per come è strutturato per come è stato scritto e disegnato sembra quasi una diretta filiazione sia pure con le tutte differenze l'epoca l'epoca era quella lo stile diciamo che dico il mio ma anche quello di Mario era quello quindi abbastanza ovvio Milo stava esordendo ma poi impaginazione modo di disegnare sì 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 ma anche persino lettering il lettering che riconosco perfettamente che l'ha fatto tale Renata Tuis che è una letterista cioè quelle che mettono le parole nei fumetti molto brava sì sì infatti leggendo lo vedi che chiaramente nasce in quel contesto lì non era stato casuale che qualcuno mi aveva chiesto di fare questa roba perché sapeva che io ero in contatto con delle persone che potevano farlo poi chiaramente il contenuto non poteva andare sul Corriere dei Ragazzi perché il contenuto è un'altra cosa però per tutto il resto francamente leggendolo sembra di leggere una storia del Corriere dei Ragazzi diciamo tra virgolette molto tra virgolette evoluta no? sì so che è stata l'avevano presa pagata anche poco però non l'ha mai pubblicata Charlie che era una rivista francese Charlie che non è Charlie Hebdo ma comunque ha qualche parentela perché Charlie era un mensile tipo Linus fatto dalla stessa casa editrice che pubblicava Arachiria Arachiria era una rivista profondamente satirica molto dura dove che usava come modo di far satira anche la volgarità e il disgusto però in maniera molto intelligente molto forte ma molto intelligente cioè e lì c'erano infatti i fior di autori c'era Cavannà c'era c'era Volansky c'era c'era il professor Choron un tizio che si chiama Charles Bernier insomma c'era una fortissima gruppo di di bravi autori satirici ripeto molto volgari infatti si autodefiniva la rivista Journal Bette Mechang bestia cattivo e bestiale poi Charlie pubblicava questa rivista tra l'altro la casa editrice pubblicava una specie di Linus che chiamava Charlie e Charlie e Charlie Brown dopodiché Arachiria è diventata settimanale ha cominciato ad andare male e l'hanno chiamata allora hanno preso la testata di Charlie e Linus e l'hanno chiamata Charlie Hebdo all'inizio Charlie Hebdo era un po' come Arachiria c'era questa vecchia scuola di satira dura volgare ma intelligente c'era le Isek era un genio c'era un sacco di persone di questa cosa poi pian pianino Charlie ha preso una piega che ovviamente io prendo il distacco più immenso possibile immaginabile delle orribili cose che sono succese però non era più satira secondo me Charlie io ho comprato in Francia un librone che si chiama le mille prime pagine di Charlie e devo dire che dopo la 200 erano abbastanza fastidiosi cioè non era satira è un insulto vedi l'ultima cosa dei terremotati no quella non è satira non è insulto perché non colpisce nessuno non c'è un colpito è come dire ma è morta la mamma del caporedattore di Charlie e domani vado a sputare sulla tua tomba no solo volgare non è satira e questa è stata secondo me la triste fine di Charlie poi c'è stato l'orribile questione di Charlie che quella è stata terrificante è stata veramente terrificante però ecco in questo caso c'è sui Pasciarri però trovo terrificante orribile e oltre ogni immaginazione quello che è stato fatto vediamo se ci sono delle altre immagini sì le facciamo scorrere siamo più o meno sono vedete immagini anche telegiornali sono documenti dell'epoca e c'è un pezzo molto bello che hanno alla Cineteca di Torino dove l'abbiamo presentato dove c'è l'incontro Pinelli c'è la storia di Pinelli ed è curioso perché è uno degli anarchici capelli lunghi una parte estremamente seria e adesso mi scappa il nome vabbè amici miei il barista Necchi Montagnani Renzo Montagnani Renzo Montagnani con i capelli lunghi Baffi che fa uno della un anarchico del del gruppo della Bovisa che adesso non mi ricordo il nome vedete ci sono anche addirittura delle pagine dei giornali all'interno della 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 storia ecco Pinelli è stato suicidato cioè il lo striscione in questo caso ecco poi finisce no al fascismo eccetera eccetera tra l'altro giusto per ecco queste due pagine in pubblicità in seconda in terza di copertina come mai le Brigate Rosse compiscono sempre prima delle elezioni quelle che vi promettono l'ordine non ve lo daranno mai eccetera eccetera due messaggi chiaramente aggiunti propagandistici insomma chiaro chiaro perché nasceva la cosa cioè chiudiamo con una curiosità nel senso che il PSI evidentemente c'è un rapporto interessante con i fumetti soprattutto in quegli anni perché qualche anno prima fece un libricino disegnato disegnato malamente in cui c'era una sorta di storia del PSI lo fecero intorno a metà negli anni 70 anche questo e poi nel 92 per gli 80 anni del PSI fecero commissionare una Prati il cuore Garibaldino del quale abbiamo visto ieri chi c'era visto alcune alcune immagini perché poi c'è anche il rapporto con i partigiani eccetera eccetera quindi evidentemente l'ex PSI quello che prima della caduta della prima repubblica aveva in qualche maniera interessato anche il PC aveva qualche interesse però faceva c'era ahimè in quel momento il PC non ha mai avuto un amore tremendo per il fumetto c'era la famosa abbiamo parlato della lite per la Iotti eccetera eccetera quindi lo sappiamo però dopo un certo momento ho cominciato anche a capirlo ed apprezzarlo però c'era in quel periodo una cosa tremenda che era il cosiddetto volontarismo è vietato avvalersi di professionisti e c'è stato un periodo che veramente il fumetto politico è stato buttato via non so se ne avete parlato ieri ma suppongo di sì no ci siamo fermati noi alla resistenza in questo caso ero più specifico sulla resistenza su come è stato affrontato il tema resistenza nel corso del tempo nel corso del tempo certo quindi siamo fermati su una cosa ben precisa però ecco c'era questa cosa che mi ha colpito adesso ci ho riflettuto adesso eppure avendo le viste ma guarda che però il PC ha fatto il pioniere dell'unità ha usato Rodari aveva non è che non abbiamo anche visto storie del pioniere ieri però c'era questa dicotomia fra lo facciamo però poi abbiamo la resistenza interna poi in realtà il pioniere non è mai stato un grandissimo giornale ha avuto delle cose c'erano delle cose di Rodari interessanti però altre francamente la qualità non è che fosse soprattutto se la si compara con la coeva qualità del vittorioso vabbè non c'è dubbio i preti sono sempre stati bravi sono stati bravi a scegliersi gli autori avevano beccato i migliori punto esatto e vabbè ci ho detto come ultima cosa io ringrazierei Alfredo Castelli per essere stato con noi per averci raccontato grazie il Corriere dei Ragazzi e soprattutto l'atmosfera che si vive a Corriere dei Ragazzi è quello che ha rappresentato in cinque anni che sono un lasso di tempo brevissimo però ha rappresentato un'epoca vera e propria che ancora che lo fa ricordare a quarant'anni di distanza come dicevi come un momento irripetibile ma straordinario del fumetto italiano bene io ringrazio voi per l'eroica resistenza manifestata hai anticipato i miei ringraziamenti vedo che insomma spero che non insomma abbiate trovato in questa chiacchierata quegli spunti appunto di riflessione di cui si parlava prima perché questa rivista se vi capiterà di trovarne degli episodi o se vi capitasse caso mai quel progetto andasse in porto di di trovarlo dateci un'occhiata perché molte di queste storie non sono mai state ristampate per cui le rivedrete dopo 40 anni quindi a mio avviso vale la pena di guardare e a chi volesse do appuntamento domani con Milo Manara e Vittorio Giardino per parlare ancora una volta un po' di un fascio di bombe ma anche di altre cose di altre cose legate appunto al rapporto tra politica e fumetto grazie ancora e buonanotte a tutti grazie a tutti grazie a tutti